Va tutto bene tesorucci? Ci sono qui io adesso, povere piccole. Sì, lo so che ci ha scoperte, ma non gli permetterò di farvi del male. Lo ucciderò. Ivy, la dottoressa Yang ha mutato queste piante per produrre il venom. Sì, e ho saputo da fonti ufficiose che quella strega ha pagato per questo. Mi serve il tuo aiuto per trovare l'antidoto. Perché dovrei? Che Joker si diverta. Sarà un piacere vedere che ti contorci. Sei stata troppo al buio. Ogni pianta di questa isola riceverà lo stesso trattamento se non collabori. C'è una pianta che cresce nelle viscere dell'isola di Arkham. è in grado di annullare gli effetti di questa variante di Titan. Dove si trova? Oh, nella tana di Killer Croc. Pensavi che sarebbe stato più facile, vero? Torna nella tua cella, altrimenti dovrai vedertela con me. Ti aspetterò. Oracle, devo trovare il modo di entrare nella tana di Killer Croc. Si trova da qualche parte sotto l'isola di Arkham. Il sistema non dice dove lo tengono. Ho trovato una porta vicino alla Batcaverna, ma è sigillata. Deve esserci un altro modo di entrare. Ho lasciato la guardia Cash nella residenza. Spero che lui possa illuminarmi sulla tana di Croc. E torna a giocare ancora un po' con quella stronza. Il capo non è ancora pronto a riceverti. Che cosa diavolo è? Continuate a colpire! Sì, lo colpiamo! Sempre un vecchio! Sì, lo colpiamo! Sì, lo colpiamo! Sì, lo colpiamo! Sì, lo colpiamo! Sei fottuto, Batman! Abbiamo ridato la corrente! Sei in trappola lì dentro! Ok Joker dice che sta per tutto State in guardia e non fate casino Quando arrivano gli aggiornamenti Joker ha detto che saremmo diventati Non ti conviene scherzare con noi E l'alto Sopra gli alberi Proprio questa volante che conosciamo Ma quanto male ti ha lasciato un regalito Hai sentito il capo? Joker aveva ragione Ho trovato qualcuno Che cosa fai? Davi, sveglia! Maledizione, è andato! Ma come fa? Che sta succedendo? Zitto e continua a cercare Batman, mi senti? Fatti vedere Io capro la porta Qualcuno vuole spegnere quel coso? Cavolo! Vado! Che cosa diavolo è? Maledizione! Batman vuole incas... Eh, Batman! L'ho perso! Maledizione! Dov'è? Tre a terra! Stanno restando in fuoco! Che cosa? Come la chiunque! Che cosa? 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 Sì Facile, persino un cieco sarebbe arrivato a inciampare su quello Cominci a impressionarmi Batman, forse un giorno arriverai quasi al mio livello di genio Sì 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 Fra poco saranno fuori controllo Sembra che le piante subiscano un'altra mutazione Sì Sì Quel baccello contiene delle spore simili a quelle che ha usato Ivy per attaccare Gotham l'anno scorso Sono mortali Sì 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 Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti.